Ciro Lodato Traslochi, Cava dei Tirreni, al corso Umberto I 281 Sabato 6 agosto a Piazza Abroco, inizia l'ore 21, serata finale del Festival delle Torri giunto oramai alla sua 31esima edizione, organizzato dal Comitato Permanente Organizzazione Festival delle Torri settore dell'ente educativo, storico e culturale Sbandilatori Cavenzi, città di Cava dei Tirreni Un'edizione all'insegna della diversità quella di quest'anno, uno dei 17 obiettivi sostenibili dell'Agenda 2030 dell'ASVIS che il Festival ha sempre posto al centro dei suoi obiettivi oltre ai valori fondanti della pace I gruppi esseri che si esibiranno sul palco del Festival delle Torri 2022 saranno quattro La Spagna con la scuola dei baile flamenco La Niñas della Toscano Il Cile con il ballet folcloristico Bafca Cile Il Messico con il ballet folcloristico Buio Nicolaita mentre l'Italia sarà rappresentata dagli Sbandilatori Cavenzi Performance iniziale delle ginnaste dell'AS di Juvenilia Dopo i premi speciali Torre della Pace assegnati a Vitri sul Mare, alla giornalista Elena Tempestini alla scrittrice Autilia Vagliano, alla presidente dei nasi russi Francesca Colombo e dal regista Antonello De Rosa Durante la serata saranno nominate ambasciatori nel mondo per la difesa dei diritti umani dei bambini e per il loro diritto allo studio e all'istruzione nel mondo dell'arte, della musica, della cultura e nel sociale Giuseffina Alessio di La News24 Fabrizio Failla, Rai Sport Julian Oliver Massarillo, musicista e l'associazione Emergency I premi consistenti in un attore di ceramica sono stati realizzati dall'artista vetrese Claudio Coccorullo in arte Klaus Sarà presente alla serata finale Fabio Graziosi, responsabile del Centro di Informazione Regionale delle Nazioni Unite, UNRICH con sede a Bruxelles che ha la finalità di diffondere attraverso la comunicazione a vari livelli il messaggio ad il materiale educativo dell'ONU creare consapevolezza e comprensione sui temi legati ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per la Regione dell'Europa Occidentale, Santa Sede, Malta e Repubblica di San Marino Saranno inoltre premiati i dirigenti scolastici che con i loro ragazzi dei loro istituti hanno partecipato al concorso Nodoro della Pace bandito dall'Endes Bandilatore Città di Cava di Tirreni unitamente agli assessorati all'istruzione, alle politiche sociali del Comune di Cava di Tirreni rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cava di Tirreni